Ogni lezione una cinquantina circa, due classi di ragazzi in presenza, oltre a non so quanti altri collegati in streaming, e tutti attenti. Ora questo è un ritornello che ripeto spesso, però è una cosa spettacolare. Non sentire tanto brusio, non sentire, non vedere i telefonini che circolano. Su materie onestamente abbastanza, se volete anche un po' noiosi, quelle inerenti all'educazione civica è una soddisfazione. È quasi al termine, il terzo anno di lezioni di educazione civica organizzate dall'Associazione Intratevere e Tarno negli istituti superiori dell'Aretino in collaborazione con il provveditorato agli studi di Arezzo. La terz'ultima lezione è stata tenuta dal professor Alessandro Artini al liceo scientifico Francesco Redi, argomento la sociologia della politica. Io partirò da Max Weber che è uno dei padri della sociologia, poi affronterò un tema come quello dell'ipocrisia, su cui ha scritto un'importante filosofa contemporanea, poi prenderò alcuni concetti chiave della politica e della sociologia, il concetto di nazione e da un punto di vista sociologico e politico il tema dell'Europa. Voi siete stati sempre molto equidistanti da tutte le posizioni politiche, oggi però la politica è molto fluida, molto meno netta come posizione rispetto a 40 anni fa, anche 30 anni fa. Tanti ragazzi dicono ma questi politici sono tutti uguali, qual è il sentimento che vorreste che invece venisse innescato grazie anche a queste lezioni di educazione civica? Che politici non sono tutti uguali, intanto perché sono persone diverse l'una dall'altra e come persone c'è chi è preparato non moltissimi, c'è chi non lo è poco, c'è chi non lo è per niente, distinguere tra queste categorie sarebbe già uno straordinario risultato se riuscissimo a raggiungerlo. Seconda cosa, le persone possono essere del tutto degne, capaci, intelligenti e affidabili a seconda delle loro opinioni. Se io ho un'opinione, semplifichiamo di destra, troverò affidabile, capace e competente almeno uno dei politici di destra, ma la stessa dignità e la stessa importanza ce l'avrò a sinistra se ho un'opinione diversa di sinistra. Alla base di tutto però c'è la competenza. Gli ultimi due appuntamenti saranno il 20 di maggio all'Ipsia Vasari, con la storia del patriarcato e del matriarcato e le grandi donne dell'Aretino. Quest'anno scolastico si conclude con il 27 di maggio una lezione su come è mutato il mondo della comunicazione.